la distanza fuori intorno al secondo minuto del primo tempo Tiziana Pota, attenzione sulla destra e rompe la Marrazzo il palo interno, incredibile la palla non è entrata di un soffio Anna Leone ancora Marrazzo, bagnato, attenzione al pressing tutto rientrato dietro alla Rosarnese Marrazzo scambia ancora con la Pota non si chiude il triangolo, c'è